Proseguono l'estate in città del comune di Pordenone i giovedì sotto le stelle, con negozi aperti fino alle 23, concerti e musei del centro aperti. Visitando il Museo d'Arte a Palazzo Ricchieri si può ammirare anche la donazione Zuccheri. Al Museo di Storia Naturale sono invece esposte le suggestive fotografie dei cieli stellati di Lorenzo Santin. Per chi vuole approfondire l'argomento, mercoledì 30 luglio alle ore 21, Lorenzo Santin svelerà i segreti delle tecniche di ripresa del cielo notturno, mentre il fisico Marco Mercanti spiegherà come capire e interpretare le immagini astronomiche. Tra le novità dei giovedì sotto le stelle c'è Cucinare sotto le stelle, con show cooking ed eventi legati al gusto, evento che verrà riproposto anche giovedì prossimo. Grande protagonista della serata di ieri è stato però il tuo canto libero, il concorso canoro a cura del CEM, con l'intento di valorizzare i giovani talenti. A sfidarsi a colpi di note sono stati 12 finalisti, provenienti dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. A convincere la giuria per intonazione, interpretazione e presenza scenica è stata Caterina Cesca di Concordia Sagittaria, con Hard to Handle. Domani tra le proposte dell'estate in città da non perdere sono i percorsi guidati gratuiti ad Humus Park, nelle due sedi al Palù dell'Ivenze e al Parco del Castello di Torre a Pordenone, che permetteranno di fare un meraviglioso viaggio nella storia, immersi nella natura tra acque e verde, godendo della bellezza dell'arte. Al Parco di Torre invece l'appuntamento è nel pomeriggio. Alle 17 si potrà visitare gratuitamente il Museo Archeologico. Alle 18 partirà il percorso guidato alle installazioni artistiche di Humus Park, realizzate utilizzando materiali naturali reperiti sul posto. I percorsi assistiti a Humus Park continuano tutti i sabati di agosto, ad eccellzione del giorno 2 agosto.